In occasione della giornata dell'archeologia, al Museo Archeologico Nazionale di Campli sarà inaugurata la mostra Le Madonne in terracotta di Nocella. Domenica c'è questo incontro presso il Museo Archeologico in cui viene fatta conoscere questa mostra di statue di terracotta. Una cosa sicuramente importante nell'ambito della giornata nazionale dell'archeologia organizzata dal Ministero. Io voglio ringraziare il Direttore del Museo Angioletti ma anche il nostro storico Nicolino Farini ma il fatto importante è che ci saranno anche altre opere importanti che stanno in alcuni depositi di chiese e quindi da restaurare. Quindi un'ulteriore iniziativa da parte del Museo Archeologico che noi come Comune appoggiamo per il rilancio del nostro territorio e quindi per il miglioramento della nostra realtà territoriale perché comporta un rilancio patrimonio culturale dei nostri tesori. Nell'occasione sarà presentata anche l'omonima pubblicazione dello scrittore Nicolino Farina. Quell'occasione la fa da maestra la mostra che è veramente una chicca perché nella realtà abbiamo recuperato almeno due statue o resti di statue che altrimenti erano proprio perse, andavano perdute. E quindi in questo siamo in pieno accordo con quell'evento che è del MIBAC cioè la giornata dell'archeologia, del patrimonio artistico e del restauro che tiene proprio a mettere in evidenza tutte quelle opere d'arte che non si possono vedere o che comunque pochi conoscono. Quindi lì la mostra nella realtà oltre a avere degli esempi di questa straordinaria scuola di Nocella che è conosciuta quasi per niente se ne è scritto quasi niente abbiamo proprio un recupero di alcune state veramente straordinarie.